La gioia attesa per 33 anni è realtà. Il Napoli dopo il Paribèffa contro la Salernitana pareggia al Friuli, uno a uno contro una Coriacea Udinese e si porta a casa uno strudetto strameritato e voluto fortemente. Allo stadio di Udine oltre 20.000 spettatori sono sugli spalti per vivere una festa che non poteva più attendere. Il gol di Lovric sembra il preludio alla seconda delusione dopo quella del Maradona, ma stavolta gli azzurri di Spalletti non vogliono farsela rovinare. Nel secondo tempo il gol di Victor Ozymane, capo cadonire indiscusso della stagione, fa esplodere lo stadio di una gioia incontenibile. Zielinski spiora il raddoppio, poi, il controllo della gara fino al triplice pischio che sancisce lo scudetto azzurro. Ma i friulani, o almeno coloro che si definiscono tifosi, cercano di puntarla sulla rissa dopo che i tifosi partiano paio e giustamente festeggiano sul campo. Scene di violenza inaudita, non accettabili. Diverso il tenore al Maradona, dove i tifosi avevano seguito sul maxischermo la gara. Nessuna invasione di campo, una correttezza inegualiabile e da sottolineare. I festeggiamenti durano tutta una notte. Nel corso della stessa arriva la notizia che gela l'entusiasmo. Un tifoso di 26 anni muore dopo una sparatoria che conta anche sei feriti. La parte meno bella e amara di una notte azzurra attesa da troppo tempo e che rimarrà nella storia della città e del paese.